Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, allora ragazzi devo fare un'errata corrige perché nel video appena uscito di Automobilista 2 ho detto che dovevo uscire anche il pack DTM 1995 ma ho fatto una confusione grossolana con RaceRoom e quindi per scusarmi ragazzi vi voglio fare una carrellata, anzi ne approfitto proprio di questo video per farvi vedere la carrellata di immagini lo studio KW Studios mettono a disposizione per far vedere tra il prima e il dopo che cosa ci dobbiamo aspettare tra due giorni quindi ragazzi il pack DTM è per RaceRoom non per Automobilista 2, grazie a tutti quelli che se ne sono accorti di questa mega cavolata che ho detto mi scuso nuovamente e quindi vi condivido queste bellissime immagini che soprattutto questa è bellissima che si vede proprio il loot cambiato la colorazione, le ombre fantastiche, è stato aumentato il dettaglio dei particolari per quanto riguarda i circuiti ragazzi veramente in questo momento ci aspettano delle novità pazzesche per quanto riguarda il sim racing se guardate sta 296, bellissima, con queste luci, bellissimo, con queste ombre ben definite insomma RaceRoom veramente cambia veste, si rinnova e in più ho sentito che mi sa che stanno lavorando per cambiare anche il motore grafico per permettere di farlo girare sul delle DX più recenti quindi questo è solo l'inizio ragazzi guardate che nuvole ragazzi, queste sono bellissime queste nuvole molto belle, i riflessi, pure le ombre quindi niente ragazzi volevo scusarmi con voi per questo grossolano errore quindi ragazzi se accettate le mie scuse ovviamente pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao grazie